Questo servizio è offerto da ML Auto, rivenditori Suzuki, Hyundai, Peugeot, via Passer 13, Montevarchi. Per il campionato giovanissimi Under 15 Elite al campo sportivo Gabriele Duva di Mercatale, il Montevarchi batte il Navacchio Zambra per 2-0. Partita che inizia con il Montevarchi in attacco. Al quarto minuto Salvi, partito sulla sinistra, mette una palla nel mezzo per Tognaccini, ma la sfera viene raccolta dal portiere avversario Bosco. Due minuti più tardi è sempre Salvi dalla destra che riesce a mettere la palla nel mezzo per Valentini, che con un facile tap-in segna il gol dell'1-0 Aquila. Al decimo minuto azione confusa nella rosso-blu, ma Franceschini non riesce ad impattare bene il pallone, che viene spazzato dalla difesa dei padroni di casa. Partita che dopo il gol si addormenta un po' con le due squadre che giocano soprattutto a centrocampo, con molte interruzioni che non contribuiscono certo al normale scorrimento del gioco. Al ventiquattresimo il Navacchio reclama un calcio di punizione dal limite, ma l'arbitro lascia giocare. Arriva alla conclusione ospite, che però termina al lato. Minuto 26, Pozzolini controlla il limite. Tenta la conclusione, che si risolve però in un nulla di fatto. Gli ospiti reclamano il calcio di rigore per un possibile colpo di mano, ma l'arbitro non è dello stesso parere. A poco dal termine della prima frazione c'è un calcio di punizione per il Navacchio Zambra. La palla arriva nel mezzo, ma per l'arbitro ci sono tre giocatori in fuorigioco, dunque gioco fermo e gol degli ospiti annullato. Al trentacinquesimo conclusione di Vannini dalla distanza, ma la palla a giro termina fuori. C'è tempo per un'ultima azione, calcio di punizione dalla destra per il Montevarchi. La palla di Ferrari si trasforma in un tiro cross, che termina comunque al lato. Riparte il match. Dopo un minuto ci prova Di Candia, ma Ermini in uscita allontana il pericolo. Minuto numero sei, calcio di punizione per il Navacchio. La conclusione di Pozzolini attraversa però tutta l'aria, terminando fuori. Al decimo, discesa sulla sinistra del Navacchio. Franceschini riceve la palla in mezzo all'aria. Un rigore in movimento, che viene però neutralizzato dal portiere Ermini. Seconda frazione, che sembra lo specchio della prima, poche azioni e tanti falli. Non ne giova sicuramente lo spettacolo. Al ventiquattresimo, punizione dalla sinistra di Ferrari. La palla arriva a Nardi, che di testa spedisce alto. Ancora Aquila-Montevarchi. Al trentesimo, azione solitare di Ferrari, che tenta la botta da lontano. Ma la palla finisce sopra la traversa. Due minuti più tardi arriva il penalty per i padroni di casa. Vannardi dagli undici metri. Bosco non para, ed è 2-0 per l'Aquila. Al trentaquattresimo, azione di forza di Allusciai sulla destra. Il diciotto rosso-blu tenta la conclusione in diagonale, ma la palla termina fuori. Non c'è più tempo, finisce così. Buona prova dei ragazzi di Mister Rosadini. Il Montevarchi batte 2-0 il Navacchio-Zambra, dopo una partita in cui il risultato non è mai stato in bilico. Con Lorenzo Rosadini, allenatore del Montevarchi, una partita abbastanza convincente. Non è mai stato in bilico il risultato, però ci sarà da migliorare. No, in bilico è stato il risultato. Da migliorare tanto, ma era previsto dal inizio dell'anno che si lavora per cercare di portare questi ragazzi a un buon livello. Questa è una bella soddisfazione, perché noi si lavora durante la settimana, vedo il gruppo unito e vedo questi ragazzi contenti, vedere i loro sorrisi sinceramente mi dà soddisfazione, perché poi noi che stiamo in questo ambiente lo facciamo tanto per passione, per voglia e vedere la soddisfazione nel volto dei miei ragazzi è quello che ti ripaga di tanti sacrifici che si fa durante la settimana. Una classifica non proprio positiva, però c'è comunque tempo per migliorare. Cosa deve migliorare questo Montevarchi? La classifica secondo me rispecchia, sinceramente siamo nella linea dei programmi, nel senso siamo un po' di classifica dove vogliamo ottenere una salvezza tranquilla, dove cercare di acquisirla il prima possibile e poi vedere se si riesce a fare qualcosa in più, ma l'obiettivo è stare il più lontano possibile dalla zona calda. Andrea Nardi, una buona partita, un risultato positivo, una vittoria per 2-0, un commento da parte tua sulla partita? Secondo me abbiamo usato abbastanza meglio gli avversari, ci poteva stare anche un gol degli avversari, però alla fine è finita 2-0 per noi. Una classifica non proprio bellissima, quindi ci sarà da migliorare anche nelle prossime partite? Bisogna migliorare, allenarsi meglio e guardare un po' cosa viene nelle partite. Emiliano Milani, una buona partita del Montevarchi, un buon risultato, un commento da parte tua sulla partita. Si è giocato benissimo, abbiamo anche controattaccato bene, io sono uscito perché mi faceva male l'acido lattico, ma va bene, va bene. Bel gesto tecnico di Andrea Nardi, quello di prima, va bene, bene. Cosa secondo te può migliorare questo motore? Si può migliorare sul gioco terra, ma a me va bene così finché si vince bello.